bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video siamo qui oggi con un chart del Nathan Drake collection scusate per la voce e continuiamo ok la terra dei morti ci siamo ma ricorda stoppiti so ecco da un'altra oh 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 come cadere Cominciamo E' finita Faccio andare un bimballo Corri Nathan, corri Questa è la chiesa? Ah, bello questo pezzo Bello, bello stronzo Ok, calma Penso sto stronzo, dai, girati Ti vuoi girare? E' un palato E che cazzo Beh, vabbè, si mette un buco davanti Figurati Dai E' la Ma va Bello, bello Mi è piaciuta sta scelta Ehm, manaya Cazzo che mi sparo Dessù E' un schistranzo Ah, grandioso E' un schistranzo Ah, che cazzo Feb Ah, che cazzo Oh Oh Cazzo Cazzo Chew Cazzo 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 mori male la musica si fermata mi sembra sono un pazzo scenda scendiamo tutti gli indizi davanti a noi possiamo farcela ragazzo come diamo la crede di portare quella statua fuori di cui vorrei sapere ma perchè ti attacchi al cazzo la musica la musica la musica no si vede una ciolla si vede è scuro è aumentata la luminosità è scuro vada vada non ci incisca è del tutto inaccettabile ma che cosa vuoi da me roman stanno massacrando i miei uomini difficile credere che un solo uomo possa spazzare via la tua ciurma non è solo drake dannazione credimi quest'isola è maledetta basta prendi la tua gentaglia e vattene aspetta non puoi sbarazzarti di me mi devi una parte dell'oro la tua parte eddy dipendeva dallo svolgimento di quanto ti ho chiesto mi hai assicurato che drake era prigioniero e che l'isola era sicura queste sono stronzate roma ne lo sai bene abbiamo chiuso signor visto che te la mettono sempre nel culo capito tutto mi puoi ricordare perché hai assunto quell'idiota superstizioso? era a buon mercato beh pare che chi più spende meno spende e cosa mi dici di te navarro? vali il prezzo che ti sto pagando? il deposito è qui ne sono certo se possiamo fidarci di saliva e non possiamo senti sa che lo uccideremo semente non essere stupido sa che lo uccideremo quando avremo il tesoro perché dovrebbe dirci la verità? credimi navarro a volte penso che tu abbia lasciato il cervello nella fogna dove ti ho preso mi serve solo un po' di tempo trovare questo tuo tesoro si è dimostrato più difficile di quanto valga ti assicuro il dorado merita più di quanto tu possa immaginare me lo auguro non dici niente? stra... ok Ah, finalmente. Un po' di luce. Ma sono andata a parte sbagliata da dove si adesì. Caricola un po' un cacchio. No, infatti. Papere. Ma che cazzo? Uccelli strani. Sono infatti dove andati qua. Allora. Un po' di luce. Si. Non. Che fai? Non vabbè. Un po' di. Un po' di luce. Un po' di luce. Un po' di luce. Nate, mi ricevi? Sì, sale qui, sto girando in cerchio Bene, la ragazza e io abbiamo letto qualche libro qua giù Mi pare che esista una galleria segreta in cima alla chiesa Puoi arrivare lassù? Credo di sì, sì Bene, chiamaci se trovi qualcosa In cima alla chiesa Cioè, mi ricordo che cacchio devo fare Aspettacolo Perchè forse qua sto tornando indietro Ma forse Forse sono dalla parte esatta Ma no Farga Di qua? Sì Ma che cazzo? Amiche, mi sono... Oh, Luca, stessa merda Ma non muori qua Eh, Peppa Pig proprio Deve essere questo Allora Oh, mi ricordo Speriamo di non cadere Sovra Nobora 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 Ma Aie Aure Panico Oh no, non lo vado a tornare in yetto Ehi, vai piano, zio. Che ci facciamo male, qua? Qua mi sembra che non si possa stare di là. Penso. O muoio. Mi attacco là. No. Mi attacca, stacca. tic tac tic tac esatto beh voilà beh che si faccello beh bingo starai scherzando ehi sally sono qui ricordi roman e navarro e la falsa pista sulla quale li hai mandati si beh sono seduti proprio sopra il nascondiglio del tesoro di tutte le sfortune ascolta serve un diversivo per farli allontanare da lì detto fatto amico ecco il diversivo in arrivo ehi sally si dopo che se ne sono andati ci vediamo al mausoleo ma passa attraverso le catacombe la via più sicura capito ora devo solo superare questi bastardi senza farmi notare sa che non ce la faremo no? sally van è fuggito sparpagliatevi e trovatelo adesso se ne sono accorti ne siete sveglie ma va t'avevo detto che non riuscivamo t'avevo detto non c'è papà ma che mira della minchia c'ho ma caputana ma questo mi lì non va un po' cagare no 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 oh merda morivo ok cominciamo mora mora eh che cazzo ma sempre diveto se ho sparato prima munizione mi chiedo perché mi chiedo perché sì non era qua ma che cazzo dove andare non è a fare un culo un po' rincoglionito e sapevo che ce l'avresti fatta ragazzo qual è la prossima non so ci penserò mentre vado questo è sicuramente il posto giusto comunque aspetta questi simboli devono significare qualcosa ma girarli a cazzo scudo ne facevano all'insù che cazzo stavate le premuto il tasso romane navarro hanno davvero fatto a pezzi questo posto cosa posto la conchiglia mangiù il serpente a sinistra et voilà no? pare che ci siamo già attenti cosa ne pensi non saprei forse è un vicolo cieco aspetta sembra che ci sia un passaggio ecco l'ho attivato che diavolo è questo? sally esci fuori di è una trappola si si bene sono intero mi hai davvero steso però si beh ti conviene tornare alla biblioteca dovremmo trovare un altro modo per uscire di qui bene ragazzi direi che il video finisce qui e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao